models and beauty da il benvenuto a orlando ferrari presidente della ferrari international buonasera buonasera a tutti di cosa si occupa ferrari international per international è stata fondata per creare gli accessori diciamo che servono sulle gru da sollevamento siamo nell'ingegneria meccanica facciamo tutti gli accessori che servono sugli escavatori sulle gru rotatori idraulici sono nomi che magari il pubblico non capisce perché non è in questo mondo però noi facciamo tutti accessori che vanno sulle gru sugli escavatori sul mondo del sollevamento presidente in ogni azienda ci sono dei punti di forza quali sono i punti di forza di ferrari international punti forza di ferrari international sono grande valore delle risorse umane della squadra che portano a dei reparti di ingegneria e ricerca straordinari le produzioni che sono ad altissimi livelli dei prodotti che sono molto belli e quando un prodotto è bello normalmente anche buono nel nostro programma si parla spesso del futuro delle nostre modelle parliamo del futuro aziendale qual è il futuro di ferrari international un uomo che fa azienda dovrebbe sempre preoccuparsi di far crescere la sua squadra come un padre buono di famiglia il futuro della mia azienda e che poi è la nostra azienda è di crescere costantemente e di dare ogni giorno di più sicurezza protezione a tutti quelli che ne fanno parte ecco voi siete partner dei models in beauty di new model today ormai da parecchio tempo che cosa vi lega è la bellezza perché la bellezza delle nostre donne che sono la continuazione della specie sono più forti degli uomini che dispiace questo lo diciamo forte forte e chiaro le donne sono le mamme e qui mi fermo noi siamo legati a models and beauty per la bellezza perché i nostri prodotti devono essere bellissime bellissime come sono bellissime le nostre donne e come ho detto prima se sono belle sono anche brave bene grazie presidente orlando ferrari di ferrari international e insieme vediamo di scoprire chi è la prossima aspirante modella grazie a tutti